Tra poco inizierà Miano contro Alilallo. Qua si chiama il Miano che sta aspettando i propri rivali. Miano che non perde da tre partite. 2-0 di filato settimana scorsa. Timoteo oggi continuerà questa striscia positiva. Sta entrando anche Alilallo. Settimana scorsa invece ha pareggiato per 2-2 contro il Madrigal. Di oggi domenica 17 novembre 2024. Come detto prima sta per iniziare Alilallo contro Miano. Alilallo che in classifica è solamente a tre punti in più al Miano. 11 quando la quarta posizione insieme al Yoga Madrid tra invece il Miano di punti ne ha 9 e occupa la sesta posizione. Un Miano molto ricompattato e il loro terzo successo consecutivo. per 2-0, 2-1 e 3-2. Invece Alilallo come ho detto è stato il pareggio di settimana scorsa per 2-2 per Marli. Quindi per questo andiamo a leggere le informazioni e partiamo dall'Alilallo. Si presenta con in Porta de Rosa, poi a starita Tommasune e Barbato. con Fenderico, Di Roberto, Marimiello. Invece per i ragazzi del Miano si presentano in Porta Sgrosso. Attenzione qua con il rischio. Gatto. Alla fine la palla che vada a Barbato ma rischio dell'Alilallo. Dicevo, il Porta Sgrosso. Spasiano e i fratelli Esposito. Con D'Andrea, Gatto, De Vigo, Chianese e Alborito. Ci manca silenzio per il Miano. Senza importante quella dei ragazzi. Tanto qua Fender recupera e vada a Barbato. Ora Max. Palla. Ora che gira e vada a starita che può anche calciare. Alborito. Spasiano. Palla che non esce. Buonocore vada a Tommasune che scarica indietro a De Rosa. Palla ancora a Tommasune che può scendere. Se no la rida indietro. Ancora De Rosa. Vada a Max. De Rosa va in avanti. Palla che arriva a Tricino. Se non l'ho nominato prima nella formazione. Bomber sta là. Ottima la palla che vada a De Vigo che cossa. Ma esce bene qua De Rosa. Messa con le mani. Pronto. Palla e mezzo. Gatto. C'è De Rosa che la blocca. Ottima rimessa qua con le mani di D'Andrea. Buonocore ancora sta rita che vada a Fende. Arriva però e sposo ancora Bocinov calcia. Tiro di bole. Pronto facile. Palla lunga. Palla lunga. Testa. Palla lunga. Testa. Palla lunga. Va a Tricino. Palla che... Che dire? Non gira. Troppo secondo me adesso. Dimessa dal fondo. per sgrosso attenzione triscino aggancia e tira ancora recupera di chianese che chiede scusa ma sarà una bella occasione per la lilalla calcio d'angolo pronto fenderiko crossa sul secondo il battuto non è stata quella delle migliori che aggancio di d'andrea ancora d'andrea arriva alborito ancora alborito che insiste palla fuori rimessa il miano riesce a combattere passa e vada gatto che scarica di la spaziano che può crossarla viene marcato da due torni indietro dal borito ora alborito che ruba la palla e può andare davanti adesso c'è ancora però spaziano che non molla vicino aggancia scivolata arriva d'andrea ancora il pressing la fine della rimessa e per il miano ancora palla in mezzo palla fuori messa al fondo centralmente arriva d'andrea che vada spaziano ancora spaziano può calciare la parata di de rosa ottimo tiro qua fenderiko senza ancora fenderiko velo per max di marinello poi de vivo spaziano la palla va fuori per intensità in questo inizio barbato va in mezzo troppo lunga spaziano può andare ancora spaziano non passa per alborito palla fuori ancora rimessa per il miano scende de vivo centralmente il perno di centrocampo attenzione gatto non aggancia bene thomas su ne vada max ancora barbato triscino marino non ci arriva alla fuori punto da andrea capisce tutto di roberto e vada triscino scivolata di canese ma triscino calcia c'è stata deviazione c'è calcio d'angolo ho visto male fatto col dito così è troppo divino verso la che ho vissato che ha fatto la va sgrosso palla lunga gatto il paolo favorile per il miano con la gatto che combatte pasquale gatto la palla che non arriva arriva adesso da spaziano alla fine c'è il fallo punto a starita si de rosa vado a starita ancora de rosa bella la pallata di roberto recupero ottimo di debito che va da andrea che arriva in mezzo attenzione rimessa con le mani ancora per il miano balla in mezzo testa di barbato spaziano aggancia face a starita poi fenderico che allunga vendereico non riesce a darla poi con un bolla nella fine guadagna calcio d'angolo c'è tricino da solo bene visto poi gatto con la gatto può correre ma c'è barbato che lo chiude palla che arriva da vivo che non riesce a calciare bene palla che va fuori c'è rimessa con le mani per l'ali lal c'è rimessa che si fa male riesce a costarla poi bocino che vada da vivo coranello troppo così e così poi c'è de rosa barbato tensione di roberto poi bacino non buttava la fuori rimessa ancora per l'ali lal palla in mezzo il grosso non esce bene la pallava fuori però rischio del miano alborito d'andrea verso in avanti testa di gatto per spaziano che sembrava non riuscire ad andare sulla palla però non è dei migliori vista dal fondo barba alla fuori punto barbato c'è uno stop la roba di lacci barbato ma in mezzo messa lunghissima di roba patriscino che spara iniziativa di buonocore che appoggia di petto per triscino che combatteva ad andrea non si fa recupero di roberto arriva da andrea ancora da andrea palla lunga testa di roma su ne buonocore riesce a passare ma c'è ancora da andrea insuperabile chianese di tacco parla che non esce gatto può partire ma arriva di roberto gatto non molla ora pasquale può crossare palla forte arriva spaziano non ci credo che errore tu per tuta solo appoggiarla alla fuori di rosa palla lunga petto ancora salta di triscino di roberto stezza fenderico ma arriva di vivo non passa triscino della lunga ancora triscino sgrosso spaziano gatto combatte ma starita da terra riesce a recuperare calcio d'angolo pronto dei vivo che va in mezzo sul secondo a cercare da andrea ma c'è barbato ancora max non riesce a tenere la palla in campo bocino solta calcia deviata arriva di vivo spaziano attenzione mischia a starita la finisce in palo che favorisce ancora starita che non passa su chianise barbato palla in mezzo buonocore non passa poi la palla viene spazzata ancora starita arriva chianise ma arriva anche buonocore se fallo calcio di punizione di roberto sulla palla il grosso ne mette soltanto uno barriera per vedere il tiro alla bassa c'è gatto a starita tommasone max gatto velocissimo ma tommasone sterza bene ancora tommasone l'impala che va alla fine spaziano sterza non trova la palla poi triscino fa una grandissima cosa qua però poi guadagna una rimessa rimessa con le mani per lalilallo palla in mezzo spaziano 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 per il miano per l'alboretto chianise pallalo a starita si coordinava marinello poi ancora al boreto poi c'è gatto ma viene chiuso da starita rimessa ancora per il miano bocino sterza poi va da gatto ma c'è de rosa pesce subito valla barbato tommasone ancora bocino che bella palla da spaziano ancora può inventare ancora spaziano vada e scosto ancora gabriele viene chiuso ancora d'andrea ottimi scambi qua ancora d'andrea deve vivo non riesce ad andare da gatto marinello non riesce invece a darla da starita chianise per fallo d'andrea chianise de vivo coranello buonore 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 d'andrea ancora poi per la scivola si fa male ma si continua bel gesto sportivo qua di max ma sta a terra d'andrea esce d'andrea una storta una storta rimessa per ma non era alboreto non è che attenzione alla fine di rimessa per tali lal ma palla in mezzo spaziano spazza alborito attenzione di roberto con la punta esposito copre bene c'è calcio d'angolo palla a cercare max e la gancia chianise un po troppo la gamba ma è tutto regolare del nostro direttore di cara quindi si continua gatto da vivo scivola da vivo poi combatte ma alborito ancora palla calcio di munizione pronto da rosa che va subito da starita che cross a cercare triscino palo che occasione valla valla che sbatte su sgrosso alborito tacco alla fine palla che arriva spaziano ma in vantaggio de rosa la palla da starita gatto sulla traiettoria ancora rimessa per lalala palla in mezzo testa testa poi triscino si gira bene ma in e chiuso da alborito mariniello ancora mariniello palla che arriva triscino a starita palla in mezzo testa di alborito arriva ancora starita spaziano spaziano e fallo pronto alborito apre esposito testa ancora di roberto poi devivano non riesce a far meglio devivo che calcia era da solo in mezzo spaziano max ancora barbato recupero ancora di devivo gatto può andare ancora gatto stacco per devio che non ci crede la palla fuori rimessa ancora per il miano esposito devivo tommaso di roberto palla che esce messa a miano palla ancora lunga max max zona chianese adesso che lascia scorrere messa dal fondo punto grosso chianese lunga palla che arriva ancora sgrosso alborito recupero di buono core ma viene chiuso ed esposito ancora ancora inchiodato sullo 0 a 0 siamo alla fine del primo tempo fine primo tempo come ho detto 0 a 0 il risultato partita bloccata ma molto intensa l'ultima occasione hanno avuto i ragazzi sia del miano che il palo di piscino errore clamoroso di spaziano nel primo tempo pari pari mintato x 0 pari barbato apre di qua macennello ancora de vivo di apre da andrea che ha recuperato dall'infortunio al ginocchio a lui la palla barbato ora max sono solo ancora fende quale che arrivata triscino buonocore calcio d'angolo calcio d'angolo arriva buonocore si mette sul secondo fendrick e mezzo e triscino limite dell'aria è un po che andrà questa palla max palla forte messa mi hanno grosso chiani se ancora la palla che va terza da andrea torna indietro thomas un esce bene spaziano sterzai vada bocino che apre ma tomasone è molto attento poi barbato fenderico quale che arriva da starita tommasone triscino aspettava penderico alborito apre per spaziano può partire c'è ancora starita spaziano apertura per spaziano esce però bene barbato combatte mezza 2 guadagno anche il tocco di faccio l'angolo chiamarlo uno sul pallo viene adesso spaziano ma in mezzo da andrea di testa non riesce metterla forte de rosa blocca e va subito in avanti alborito esposito sterza ancora esposito da andrea apertura per spaziano non riesce ad arrivarci sulla palla di messa per la lilal palla lunga alborito triscino alla palla chianese spazza rimessa ancora per la lilal quando barbato triscino barbato max tomasone scarico d'acqua uno corre può calciare palla su chianese max palla sul secondo sgrosso sgrosso con una mano poi ancora rimessa per la lilal ma vuol dire barbato questo nome qua dietro mariniello non passa sterza bene poi tomasone recupera barbato apre ma c'è un ottimo da andrea che apre da spaziano c'è da solo esposito viene visto non aggancia bene tomasone poi e pazza direttamente triscino da l'altra parte spaziano pendericolo recupera e apre da marinillo palla troppo lunga rimessa dal fondo chianese apre esce bene a starita buono corre ancora da starita che entra in aria contatto forse era avvenuto prima a starita punta la rimessa palla in mezzo buono corre poi il gatto spazza è stato al fondo vero verosa spalla lunghissima penderico esce ad essere messa a mano spaziano spaziano sterza bene ancora spaziano buono coresce c'è d'andrea che vada dai vivo che può partire ancora dai vivo d'andrea palla forte da spaziano che non ci vede abbastanza un altro ottimo passaggio di d'andrea una partita del ragazzo in casacca gialla palla forte triccino aggancia bene vada buono corre palla cercare max ancora barbato che non molla arriva il destro la parata arriva il destro la parata poi fende erico 1 a 0 ali lal non fende è stato un cecco veloce al bar ma il gol è stato confermato il fatto che è stato ma era inevitabile cercato anche di scansarselo max intanto però comunque 1 a 0 ali lal con il gol difende rico almeno ancora in partita non molla il fallo 3 in barriera intanto per De Rosa va de vivo De Rosa mette in angolo alborito palla in mezzo ancora De Rosa vuoi il borito non calcia bene non trova la palla rimessa ancora per Romiano palla in mezzo testa D'Andrea non molla poi c'è il tiro di esposto però la palla va fuori a starità palla lunga triccino il fallo via via dalla palla via dalla palla via dalla palla via 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 D'Andrea saltaci no triccino ma c'è alborito si parte subito spaziano ancora palla che era uscita ma come fa? è messa dal fondo De Rosa palla lunga dai vivo gatto bocino ancora esposito la mano di Roberto da Andrea sulla palla direttamente in porta a starità palla lunga alborito buono cuore non passa c'è la mano pronto Max si parla un po' troppo si può partire adesso va barbato palla che gira troppo non scende abbastanza sglosso Chianesia subito dalborito ancora alborito palla che passa Tomasune poi di Roberto ma c'è D'Andrea ancora D'Andrea palla lunga gatto Pasquale gatto un'altra occasione sprecata Palmiano si stiamo nel più una ma va De Rosa palla lunga testa di Gianese buono cuore dai vivo sterza bene Max buono cuore del fallo calcio di munizione ancora D'Andrea che ma tutti in avanti è calcio va troppo forte De Rosa testa di Max alborito anche lui di testa buono cuore stop è calcio c'è la traversa messa dal fondo Chianese Spasiano arriva la palla Spasiano intanto il sinistro ancora di buono cuore D'Andrea vai in avanti a cercare gatto e c'è De Rosa palla lunga attenzione rimbalzo alla fuori alborito D'Andrea palla su Mariniello andare gatto palla pesce testa ancora triscino lancia di Roberto è da solo sgrosso max bocino recupera non riesce ad aprire per spasiano a starita il pallo spasiano può partire un 2 contro 1 arrivano adesso in due bocino può calciare sterza ancora non calcia triscino sono vicino De Rosa De Rosa balla in avanti alborito attenzione fenderico può andare sgrosso alla palla si guarda De Vivo esce di Buonocore ancora De Vivo vincere il pallo bella l'apertura che arriva da D'Andrea che non passa ancora a Barbato De Vivo palla fuori palla lunga buonocore in mezzo non entra spasiano De Vivo recupero quella palla va fuori De Vivo Alborito palla fuori capoco a starita palla in mezzo testa di Roberto carica su questo palo cianis palla che parla d'Andrea c'è ancora Di Vivo ancora gatto che combatte non molla ma c'è un ottimo buonocore in palo favorevole ancora di Roberto in mezzo alla parata di Sgrosso De Vivo D'Andrea in avanti a cercare spasiano De Rosa spasiano gancio chianise in avanti c'è Tomasone poi carica Bocino vola parata tre minuti di recupero alla fine della partita palla che arriva De Vivo aggancio alborito ancora alborito si lancia fallo del fallo è ripreso alborito Bocinov sulla palla questa volta ci va lui si dialoga con spasiano cercare la cosa più giusta da fare tre tre in barriera per De Rosa che siamo quasi alla fine della partita va Bocinov triscino fa riesce a passare poi grosso alborito deve provare a far qualcosa in piano per cercare tempo di portare a casa meno in Parigi Chiani se testa parola che esce spasiano testa Bocinov deve calciare aspetta un po' troppo guarda Andrea torna indietro sgrosso vai in avanti aggancia Bocinov ancora alborito spasiano ottimo passaggio di spasiano recupero di triscino poi fende aspettava qualcuno ce ne sono tre da Andrea vada Bocinov Gabriele esposito mamma mia altra ottima occasione palla fuori tutta seconda alla fine questa è una occasione d'oro sprecata da Andrea di testa sono saltati tutte le posizioni Chianese alborito da Andrea stessa ancora da Andrea ultima occasione carica calcia Gatto non aggancia bene finisce qua Lalilal vince per 1-0 qua alla fine della partita finita per 1-0 da parte dell'Ali Lal andiamo da da Andrea allora solamente 1-0 per la tua ottima prestazione in difesa che comunque hai coperto bene la fase difensiva cercando di fare il più possibile che non lo sei tu? signor centrocampista ok hai dato una mano dietro sì perché siamo un po' in emergenza è stata una squadra adesso in fase di costruzione stiamo cercando ancora ragazzi che possono competere con questo torneo e che dire dopo tre risultati utili veniamo da un'altra sconfitta sì arriva un'altra sconfitta stiamo un po' della situazione che che sta colpendo il nostro problema che in mezzo al campo parliamoci litigiamo fra di noi e questo non deve succedere più e si guarda davanti per la prossima partita ci sarà la prossima? grazie da Andrea a voi ci vediamo alla prossima a te e andiamo da De Rosa che c'è intrufolato va bene rimani qua comunque una clean sheet dopo il pareggio di settimana scorsa serviva una vittoria che è arrivata adesso contro una squadra in forma perché comunque è una bella squadra tosta e adesso adesso 14 punti 4 partite e potremmo fare il meglio possibile partita per partita siamo una buona squadra ma penso che tutto il percorso sia visto e puntiamo a fare meglio ok grazie a De Rosa a chi dedichi questa vittoria? alla tua squadra alla mia fidanzia e alla e a tutto ciao ciao ciao